I vertici di Palazzo Wittmann in visita al nuovo liceo pedagogico Pascoli, fiore all'occhiello del quartiere Firmian, una scuola che vivrà in simbiosi proprio con il quartiere che la ospita. Vediamo. I soldi per la cultura e per le strutture scolastiche non mancheranno mai. Autonomia significa che anche il singolo possa trarre vantaggio e questa nuova struttura lo conferma. Lo ha detto il presidente della provincia Luis Durwalder nel corso della visita compiuta al complesso scolastico Pascoli nella nuova sede al quartiere Firmian all'incrocio tra Via Druso e Via Resia. Presenti oltre alla preside dell'istituto Laura Canal e la sovrintendente scolastica Nicoletta Minney, anche il sindaco del capoluogo Luigi Spagnoli che ha specificato che Bolzano non può più essere una città che concentra tutti i poli attrattivi in centro. Poi il vice sindaco Oswald L. Costa e l'assessore provinciale dei lavori pubblici Florian Musner che ha ribadito la voglia di riforme non solo pedagogiche ma anche di accompagnamento delle strutture scolastiche. Infine l'assessore alla scuola italiana Cristian Tomasini che ha detto vogliamo creare cittadini attivi e consapevoli in una struttura importante. Fatto il Pascoli adesso si farà il Carducci e poi la biblioteca provinciale. Sì, i programmi dell'edilizia scolastica per la scuola italiana sono programmi ambiziosi, programmi importantissimi. Il liceo Carducci si è già trasferito nel vecchio Pascoli per consentire la ristrutturazione e anche questa sarà fatta in tempi molto stretti, veloci e allo stesso tempo in maniera efficiente per consentire poi ai ragazzi del Pascoli di tornare nella loro scuola totalmente rinnovata, migliorata, ampliata e consentire l'avvio anche dei progetti del polo bibliotecario plurilingue che sorgerà dove oggi c'è il Pascoli che sarà un progetto veramente importante per la comunità perché con quel progetto noi diremo che vogliamo appunto fare un salto di qualità nel rapporto fra i gruppi linguistici mettendo al centro della città un'istituzione bibliotecaria quindi un'istituzione culturale che diventerà il nuovo simbolo della convivenza e della voglia dell'Alto Adige di guardare al futuro. Consegnato ufficialmente lo scorso dicembre l'Istituto Pedagogico Pascoli è una delle più grandi scuole in lingua italiana della provincia quasi 53.000 metri cubi per circa 600 studenti che trovano posto nelle 31 aule normali 3 di sostegno e 15 speciali la struttura comprende un'aula magna da 350 posti una biblioteca di 160 metri quadrati diversi laboratori e una palestra superattrezzata da 540 metri quadrati che ha specificato la preside canal da lunedì sarà totalmente agibile dopo la soluzione dei problemi di infiltrazioni d'acqua costo totale dell'opera 21 milioni e 800 mila euro arredamenti compresi